Benvenuti nel mondo degli orologi Wohler-Vetta. Wohler è un marchio di orologi svizzero con una storia che risale al 1923, quando Paul Wohler ha fondato l'azienda Basilea, in Svizzera. Da allora, Wohler si è specializzata nella produzione di orologi meccanici di alta qualità e innovativi, che sono diventati popolari in tutto il mondo. Uno dei marchi distintivi di Wohler è il suo sistema antiurto Incaflex, che protegge gli orologi dai danni causati dagli urti e dalle vibrazioni. Wohler è anche noto per il suo design distintivo e moderno, con orologi che presentano forme uniche e colori audaci. Inoltre, l'azienda ha una forte attenzione per la sostenibilità ambientale, utilizzando materiali riciclabili e cercando di ridurre l'impatto ambientale della produzione degli orologi. La gamma di orologi Wohler spazia dagli stili classici a quelli più contemporanei, con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti che cercano un orologio di lusso. Gli orologi Wohler sono stati indossati da molte celebrità nel corso degli anni, compresi atleti professionisti e attori di Hollywood. Wohler è noto per il suo design distintivo e moderno, che si distingue dagli altri marchi di orologi. Gli orologi Wohler presentano forme uniche e colori audaci, che li rendono molto apprezzati dagli appassionati di orologi di tutto il mondo. Uno dei modelli più famosi di Wohler è l'orologio Wohler Zagato, che è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di design italiano Zagato. Questo orologio presenta una cassa in titanio con una finitura opaca, e un vetro zaffiro antigraffio che protegge il quadrante nero. I numeri e gli indici sono in rilievo, e le lancette sono luminescenti per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il design distintivo e l'innovazione tecnologica non sono gli unici motivi per cui gli orologi Wohler sono così popolari tra i collezionisti e gli appassionati di orologi di lusso. L'azienda ha anche una forte attenzione per la sostenibilità ambientale, utilizzando materiali riciclabili e cercando di ridurre l'impatto ambientale della produzione degli orologi. Ad esempio, Wohler utilizza materiali come l'acciaio inossidabile e il titanio, che sono entrambi riciclabili. Inoltre, l'azienda utilizza fonti di energia rinnovabile per alimentare la produzione degli orologi, e cerca di ridurre al minimo gli scarti di produzione. Anche le scatole degli orologi Wohler sono realizzate con materiali riciclabili, per ridurre l'impatto ambientale della produzione. Anche Le Corazure Anche le scatole сложime, che si per jakie un'al Alz Online bothina le sismere, la growinga di futuro della wrist, uno semi sp payita per gliSpotzi Adchele Anche